Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia capardia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il Paese e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 6 al 10 luglio. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te.